Allora, vediamo se funziona il tutto, eh? Vediamo, eh? Allora, abbiamo un nuovo omino che può saltare e picchiare, bam, picchia, anche se non ci sono altri omini da picchiare. Da notare l'asse non allineato con il pavimento, insomma, con il terreno. Ok, comunque ho fatto tutto all'esterno. Naturalmente ci tengo a ribadire che è una prova, eh? Continua ad essere una prova. Ho fatto la luna, anche se non si vede, ma c'è la luna. Ok, un po' di environment esterno, così. Ho fatto tipo un cimitero qui fuori, così. Una cosa molto semplice. Poi, vediamo se ce la faccio a non morire, eh? Poi si entra dentro. Ho messo anche dei tipo tampadari. Qui c'è sta la monetina, qui c'è sta il mana, qui c'è un altro mana, e qui si muore. Attenzione, ho preso la chiave per finire il livello. Devo mettere ancora delle texture, vedete queste qua. Sono delle texture da mettere, e sortiamo via, senza morire. Ok, ok. Monetine, questi qua sono, non so, è energia. Andiamo verso la fine del livello, sperando di non morire qui. Ok. Eccoci qua. Ci abbiamo fatta.